Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come avete visto sono tornata in casa dei miei genitori per girare questo video perché ve l'avevo detto questa location, questi colori mi piacciono tantissimo e quindi sono tornata qui. Allora oggi ho deciso di parlarvi di 5 desideri librosi. Comunque 5 sogni che ho legati alla lettura e che mi piacerebbe un giorno poter realizzare e che comunque mi piacerebbe diventassero realtà. Mi è venuto in mente ieri questo genere di video, quindi non l'ho visto da nessun altro e ovviamente mi aspetto anche da voi nei commenti i vostri desideri librosi. Comunque per capire meglio di cosa sto parlando e a cosa mi riferisco vi invito chiaramente ad andare avanti nella visione di questo video così scoprirete quali sono i miei. Mi raccomando rimanete fino alla fine perché il quinto è il più bello e anche il più nostalgico diciamo. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Desiderio numero 1. Vorrei poter avere una libreria instagrammabile. Che cosa intendo? Praticamente io ho una casa abbastanza piccola, non mi lamento, amo la mia casa e poi non sono un amante delle pulizie, quindi avere una casa più grande eleverebbe i miei livelli di stress, quindi sono felicissima di avere una casetta proprio su misura, però diciamo che questo non mi permette di avere queste stanze piene di libri, con le pareti ricoperte da librerie e quindi insomma lo spazio dedicato ai libri è un po' ridotto. Quindi i miei libri sono un po' sparpagliati in giro per casa diciamo, ma a parte questo mi piacerebbe proprio avere una di quelle librerie davanti alle quali è sempre bello scattare delle fotografie per Instagram per l'appunto, o comunque per i social, nel senso che le mie librerie, allora io divido i libri per genere e in ordine d'altezza. L'ordine d'altezza è una mia mania che ho fin da quando ero una bambina, io ho sempre messo anche i libri di scuola in ordine di altezza, quindi io sapevo a memoria dopo qualche mese dove si trovava ogni singolo libro nello scaffale, quindi vabbè, quindi a parte questo che è una cosa mia, li divido per genere perché secondo me è il modo più, diciamo, per la mia esperienza è il modo più comodo che ho per dividere i libri, anche perché non ho queste grandi collezioni, non so, di Enaudi, tutti con la copertina bianca per esempio, quindi insomma da quel punto di vista è una libreria molto colorata, ma per l'appunto poco ordinata dal punto di vista visivo, quindi perché no, mi piacerebbe avere una libreria un po' tipo questa o tipo questa, che fotograferei di continuo. Desiderio numero due, vorrei essere più costante nel tenere un diario di lettura. Allora, avevo tempo fa un quaderno che era proprio pensato apposta per appuntare tutte le mie letture, quindi il mio giudizio, commenti, scrivere tutte le caratteristiche del libro, quindi non so, anno di pubblicazione, autore, titolo, editore, eccetera, quindi insomma un bel quaderno di quelli che chiama la cartelleria proprio adorerebbe. Il problema è che io per l'appunto non sono costante, non sono assolutamente costante e quindi inizio questi diari e poi non li porto avanti perché sono molto impegnata, di solito dopo la fine di un libro mi dimentico di segnare tutto quello che dovrei segnare, ne comincio un altro, poi un altro ancora e alla fine passa troppo tempo e non lo faccio. Seguo delle persone su Instagram o su YouTube che hanno dei bellissimi quaderni di lettura dove hanno disegnato delle librerie piene di libri e colorano le costrine dei libri ogni volta che ne leggono uno oppure dove riescono a seguire tante challenge, quindi ogni volta che leggono un libro evidenziano il punto della challenge che sono riusciti a raggiungere, insomma davvero che tengono traccia di tutto quello che leggono in maniera molto dettagliata. Li invidio moltissimo, però io purtroppo non riesco a farlo per l'appunto in maniera costante, quindi lo faccio per un po', poi di solito abbandono, a gennaio le buone intenzioni, i buoni propositi, riprovo e poi abbandono di nuovo, quindi vabbè, questo è. Desiderio numero tre, vorrei leggere più velocemente. Allora con questo io non sto dicendo che bisogna leggere per forza velocemente per macinare tanti libri. Io ho iniziato quest'anno imponendomi di essere tranquilla nella lettura, nel senso che non volevo avere diciamo la pistazione di dover leggere un tot di libri al mese, infatti se avete notato non ci sono più sul mio canale i wrap up mensili perché semplicemente ci sono stati dei mesi dell'anno in cui ho letto veramente tipo uno o due libri. Ma in ogni caso con la vita che faccio io, che è abbastanza movimentata, mi piacerebbe avere la possibilità di leggere più velocemente per poter leggere un po' più di quanto faccio adesso. Nel senso che di pomeriggio non ho sempre tempo per leggere, specialmente in questo momento in estate, quindi se state vedendo questo video nel momento in cui lo sto girando, col caldo, leggo due pagine, ho sonno, cioè non lo so, sono sempre stanca, quindi non riesco a godermi bene la lettura. La sera poi un po' leggo, però non leggo 100 pagine e quindi diciamo che i libri vanno avanti a rilento. Nonostante, ripeto, non mi imponga niente, diciamo che mi piacerebbe poter ogni tanto velocizzare un po' la mia lettura in modo da poter leggere un po' di più di quanto riesco a fare al momento. Desiderio numero 4, mi piacerebbe poter vivere della mia scrittura. Chi mi segue da tanto tempo lo sa, il mio sogno sarebbe quello di poter essere una scrittrice di professione, quindi poter lasciare il mio lavoro e vivere di scrittura, cosa che probabilmente non si realizzerà mai, semplicemente perché dovrei avere veramente molta fortuna per riuscire a vivere di sola scrittura. Ci sono tanti autrici che seguo su Instagram, anche giovani, anche più giovani di me, che magari pubblicano con case editrici anche grandi, ma che comunque non riescono a vivere solo di quello, perché semplicemente il mondo dell'editoria, della scrittura, insomma non è così remunerativo al momento in Italia. Quindi diciamo che dovrei avere molta fortuna per riuscire proprio a vivere di scrittura e ad avere quello che potrei paragonare diciamo a uno stipendio, quindi so che potrebbero non realizzarsi mai. Ma in ogni caso io ho pubblicato un libro, ne sto per pubblicare un altro, nel senso che sto aspettando la risposta di alcune case editrici per la pubblicazione del mio secondo romanzo, quindi diciamo che la scrittura comunque fa parte della mia vita e anche soltanto il fatto di riuscire a pubblicare le mie storie, quello che ho voglia di raccontare, mi dà comunque tantissima gioia, mi riempie di orgoglio e quindi va bene così. Però ormai che stiamo a sognare, vi dico che il mio sogno sarebbe poter vivere di scrittura. Desiderio numero 5, il più nostalgico, vorrei poter riaprire una nuova cartolibreria. Per chi mi segue da poco magari non lo sa, però chi è su questo canale da tanto si ricorderà che io qualche anno fa, ho chiuso la libreria sei anni fa, avevo appunto una cartolibreria che gestivo insieme alla mia mamma, l'ho gestita per cinque anni ed è stato un lavoro bellissimo e terribile diciamo allo stesso tempo, nel senso che come tipo di lavoro era meraviglioso, perché ero in mezzo ai libri, in mezzo alla cartoleria, ero in un negozio meraviglioso, avevo fatto anche, intendo fisicamente, ecco molto bello, era grande, con un sacco di vetrine, avevo creato il caffè letterario, quindi avevo creato proprio questa stanzina con i tavolini, dove potersi fermare a leggere, è stato veramente un sogno realizzato quello, ma purtroppo ho dovuto chiudere per vari motivi, tra cui il fatto che ero in un paese molto piccolo, in Italia si legge poco, c'è internet, insomma tanti fattori che non mi permettevano di avere uno stipendio, quindi io praticamente riuscivo a pagare le spese del mio negozio e poco più, quindi chiaramente lavorare tanti anni per guadagnare poco e niente non aveva senso, quindi ho dovuto chiudere il negozio, quindi anche questo sogno probabilmente non si realizzerà mai, però sarebbe bello per me poter un giorno riaprire una cartolibreria, questo perché io credo che la mente umana sia davvero eccezionale per queste cose, nel senso che in molti ambiti della nostra vita, forse ve ne sarete accorti anche voi, tende a proteggerci dai ricordi dolorosi, quindi col passare del tempo pian piano dimentichiamo il dolore provato, mentre le sensazioni positive, belle, rimangono. Per me è stato così anche per il negozio, ricordo di aver pianto tanto, di aver tirato un sospiro di sollievo quando abbiamo deciso di chiudere l'attività, però al momento io dopo tanto tempo non ricordo più così vividamente questo dolore, questa sofferenza, ma ricordo molto bene tutte le cose belle che ci sono state invece nel negozio, quindi quando facevamo le vetrine a tema per la notte bianca del paese, quindi tutti i libri con la copertina bianca, ad esempio quando arredavamo le vetrine per San Valentino o quando preparavamo tutti i pacchi per Natale, insomma ci sono stati dei periodi in negozio che davvero era un piacere lavorare lì e lavorare con il pubblico e mi manca, ci sono dei momenti in cui adesso io faccio un lavoro molto più tranquillo, sono in ufficio e diciamo non c'è molto estro, lì invece c'era proprio la possibilità di mettersi in gioco, di sperimentare, di migliorarsi sempre di più, di trovare sempre qualcosa di nuovo, quindi un po' questo stimolo ecco mi manca e chissà, insomma magari un giorno mi piacerebbe poter riavere un'attività mia, in quel caso era proprio legata ai libri, quindi ero felice al 100% veramente. E basta, questi sono i miei 5 desideri librosi, ora chiaramente sono curiosa di conoscere i vostri, quindi mi raccomando lasciatemi di qui sotto nei commenti e anche se sono desideri che all'apparenza possono sembrare impossibili da raggiungere, io credo che dobbiamo trovare un po' una via di mezzo, da una parte essere felici di avere questi desideri, perché senza desideri non saremmo spinti a cambiare, a migliorare, ad andare avanti, ma allo stesso tempo ci aiutano anche a renderci conto di quanto è bello quello che abbiamo, quindi non importa se la mia libreria non è instagrammabile, però è comunque una libreria che mi rappresenta, ad esempio non importa se non riesco a vivere di scrittura, ma anche soltanto il fatto di riuscire a pubblicare con case editrici non a pagamento, per me è un grande successo e così via, insomma quindi cerchiamo sempre anche il lato positivo di quello che abbiamo. Bene, detto questo, io spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto e noi ci vediamo il prossimo venerdì con un altro video. Ciao!